Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A11, possibili disagi per un incidente al chilometro 35 tra Pistoia e Montecatini Terme, in direzione Pisa. In A1, guidare con prudenza per la nebbia a banchi tra Roncobilaccio e Aglio. Sempre in A1, per un'allerta meteo, chiusura del tratto, compreso tra l'allacciamento con l'A1 e Rioveggio, in direzione Bologna, e tra Rioveggio e Aglio, in direzione Firenze, dalle 9 di domani fino alle 12 del 26 dicembre. Sulla strada regionale 222 Chiantigiana, senso unico alternato e restringimento di carreggiata tra Via di Casolina e Via Togliatti, in località Strada Inchianti, nel comune di Grave Inchianti, fino al 28 febbraio H24. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!